Ciao a tutti, benvenuti nell'ultimo episodio di questa serie. Oggi siamo qui con Stefano da Castello, che ci presenterà un po' il suo mondo. Allora, vuoi farci un attimo un'introduzione su di te? Che sport hai praticato, per quanto tempo, con quali risultati? Ok, ciao a tutti intanto. Il mio passato sportivo è molto lungo, ve lo riassumo, perché è poi sfociato in un'attività agonistica internazionale, però quando ero ragazzo ero sportivo locale, quindi ho giocato a calcio, ho giocato a basket 11 anni nell'Olimpo, ho fatto sci, praticavo sci d'inverno, attività agonistica con la scuola, tutte le tipologie possibili. Qualsiasi tipo di sport? Multidisciplinare, e poi sono passato all'atletica in età abbastanza adulta, avevo 17 anni, e per uno sport così siamo già ad un'età molto alta, e quindi ho tralasciato parecchia la fase giovanile delle categorie giovanili. Mi sono dedicato all'atletica e avevo già la base dello stacco del basket, e quindi il salto in lungo mi veniva decisamente facile, perché dopo 11 anni giocando a basket, saltare mi veniva molto semplice, e così dopo due anni ero già in un gruppo militare sportivo, l'aeronautica militare, in cui ho militato 4 anni facendo il servizio di leva che ancora era obbligatorio, e fermandomi poi 4 anni con loro per poi transitare nel, a mio parere, miglior gruppo di atletica italiano, quello delle fiamme gialle, che mi hanno tenuto fino al 2012, no di più, 2014 all'incirca. Ok, perfetto, allora adesso ti chiedo un'altra cosa, parlaci un po' dei tuoi risultati, e poi una domanda un po' critica, so che sei arrivato a pochissimi centimetri dalle Olimpiadi, cosa si prova a aver sfiorato questo risultato? Ok, intanto bisogna sempre avere degli obiettivi, i miei obiettivi erano iniziati a 19 anni con i campionati italiani, che era già un traguardo, una volta raggiunto quel traguardo lì, non ci si accontenta mai, e quindi si punta decisamente al podio, e nel mio caso, negli anni a seguire, sono riuscito ad ottenere a livello italiano e dieci titoli italiani, di cui tre assoluti nel salto in lungo, che poi è stata la mia disciplina principale, e praticavo diverse discipline, facevo la velocità, quindi 100 metri, 200 metri, indoor quindi d'inverno i 60 metri, che sono la distanza più breve, e le staffette con le squadre, quindi le discipline veloci e le discipline di salto. Ovviamente avevo il grande sogno di tutti, è quello di arrivare alle Olimpiade, purtroppo le Olimpiadi sono ogni quattro anni, e quindi bisogna avere anche la fortuna di far coincidere tutto il periodo, non solo di allenamenti, ma di infortuni, di vita. E anche con l'età, perché avendo iniziato, mi hai detto già abbastanza tardi, ogni quattro anni. Esatto, non ho avuto tante possibilità di Olimpiade, l'anno buono era quello di Atene 2004, quell'anno lì vinse il titolo italiano, con il record italiano di salto in lungo, quindi mai nessun italiano aveva fatto una misura così lunga ad un campionato italiano, la misura è 8,17 metri e mi lasciarono a casa, mi lasciarono a casa perché il minimo olimpico richiesto era 8,19 metri, quindi per due centimetri. Potessimo. Io me lo dovetti guardare dalla televisione, e questo fu un trauma, un trauma sì, però poi uno si rialza e dice ci sono molti altri obiettivi. E dopo poi hai continuato ancora? Sì, certamente, ci sono molti altri obiettivi, come i mondiali, gli europei, i giochi del Mediterraneo, universiadi, le competizioni sono molteplici, non solo nell'atletica, ma fanno parte di più sport. E niente, questa è stata la mia esperienza. Ok, invece, come hai reagito se hai avuto eventuali infortuni o comunque ostacoli nella tua carriera? Purtroppo tanti, perché nell'atletica leggera si va sempre a cercare il limite fisico della prestazione, quindi non è un gioco come il calcio dove prevale la tecnica di gioco, ma è uno sport fisico, quindi si va sempre a cercare la zona rossa della lancetta e non si ha un'indicazione precisa di quando il fisico ceda o non ceda. Quindi si gioca molto con gli infortuni e bisogna sapersi tirare su in ogni momento, rialzare, e bisogna avere degli obiettivi a lungo termine e non solo nell'immediato, perché si sa quando uno ha un infortunio il mondo può crollare addosso ad un atleta, però posso dire di aver avuto anche altri interessi, oltre all'atletica di conseguenza, nel momento in cui il fisico decadeva il panorama delle alternative era molteplici, erano molteplici, bisognava bilanciare sicuramente. Ok, perfetto. Quindi cosa significa per te, e cosa hai provato ad indossare la maglia della nazionale? È la maglia della nazionale, è uno di quei grandi obiettivi come l'Olimpiade, uno va per obiettivi, quello era un risultato a cui tenevo moltissimo, sia io, sia l'allenatore, sia la società, e una volta entrato poi a livello nazionale sono rimasto per molti anni, sia individualmente, quindi come un sport individuale, sia come staffettista, quindi partecipavo costantemente a raduni in Italia, in Europa o anche nel mondo, e a seconda dei periodi, perché noi andavamo a cercare i mesi caldi, ad esempio in Sudafrica d'inverno, o piuttosto che in Sicilia se stavamo in Italia, quindi temperature già diverse per potersi allenare, ed è ancora oggi uno dei miei obiettivi più grandi che... Quindi si può dire che la tua soddisfazione più grande sia stata questa, di raggiungere i nazionali? Aver la maglia della nazionale addosso nell'atletica significa poter fare le competizioni più grandi, quindi non si possono fare campionati europei se non con la federazione, se non con la maglia della nazionale. Certo. Quindi bisogna andare a step. Piano piano. Questo è l'obiettivo. Ok, invece ti chiedo, per raggiungere comunque questo percorso, per portarlo a termine, hai dovuto rinunciare, hai dovuto fare delle scelte, rinunciare a qualcosa? Eh, decisamente sì. Quando uno porta con sé il proprio strumento di lavoro, che nel mio caso era il fisico, non parliamo solo delle gambe o delle caviglie o delle ginocchia, parliamo proprio della totalità del fisico, quindi fare delle scelte significa, quando uno è in età giovanile, rinunciare a determinati orari di sonno, quindi a determinate uscite con gli amici, a ridurre notevolmente il consumo di alcol, che in una compagnia è già difficile, se hai tolto il periodo del lockdown che non si può fare nulla, però solitamente uno si fa anche attrarre da discoteca alcol. E poi comunque l'età di svago, tra virgolette, era quella, perché si è iniziato... Era quella, certamente, quindi parliamo anche, non so, io ho la passione anche per le moto, quindi a ridurre al minimo l'attività sulle moto, perché è uno sport pericoloso. Rischioso. A ridurre l'attività sugli sci, perché poteva portare a infortuni, quindi le rinunce sono forse molteplici, non si contano nemmeno, però diciamo che non ho rimpianti, perché sono stato ripagato ampiamente. Le soddisfazioni sono state molto alte. Ti chiedo un'ultima cosa, cosa ti senti di consigliare a un atleta che quindi si avvicina a un'attività agonistica? Di amare lo sport che sceglie, perché se uno fa uno sport, come nello sport e anche nella vita, uno sceglie un'attività con passione, la porta avanti con piacere e non per obbligo o perché il genitore ha voluto che io facessi quello sport. Deve essere una scelta personale, deve essere una scelta anche dettata dal fatto di aver provato molti sport e poi aver scelto quello che più è attinente alle proprie caratteristiche o a cui può ambire maggiormente. Magari ti appagava anche di più. Ti appagava anche, più performante per quello che... Certo. Perfetto, allora io ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Grazie a voi. Salutare a casa. Ci vediamo nel prossimo format. Ciao. Ciao a tutti.